Abbiamo voluto mettere insieme tante cose, non solo la moda propriamente detta, degli abiti, dei vestiti, della sartoria. Un racconto che privilegia la figura della donna da sempre, protagonista assoluta del mondo della moda, della quale si evidenzia la progressiva emancipazione sociale, l'abbandono dei corsetti e delle ampie gonne nel primo novecento per far posto ad un abbigliamento sempre più dinamico e moderno, fino alla rivoluzionaria minigonna. È la mostra dal titolo Modi e moda, organizzata da Monos e Mosaico con il Polo Museale della Toscana in collaborazione con Sil e Arte, che ripercorre oltre mezzo secolo di storia del costume e della moda italiana. Abbiamo voluto indagare sui cambiamenti di stile, di modi di essere, quindi partendo dai primi anni del novecento e attraverso i vari decenni, fino ad arrivare al 1960, cioè proprio come è cambiato il nostro mondo, come sono cambiate le persone e soprattutto come sono cambiate le donne, che hanno trovato un bisogno di libertà e di identità, che è cresciuto nel tempo, mano a mano piano all'inizio e poi sempre più precipitosamente. Oramai le donne sono arrivate ai massimi vertici, cosa impensabile nei primi anni del novecento, quindi non parliamo di due secoli fa, ma di pochi decenni. Quello che è successo in questo secolo breve per le donne è veramente una cosa incredibile. La mostra sarà visitabile nel sottochiesa della Basilica di San Francesco fino al prossimo 4 di novembre.